La cattura di Sadono da parte del controspinaggio americano segna la chiusura dell'incidente indonesiano garantendo ai timoresi i servizi hanno confermato le connessioni di Suadi Sadono con il cosiddetto triangolo d'oro dell'eroina. Ha consentito una presenza militare americana a Timoreste secondo la definizione del governo timorese. È l'inizio di quella che l'amministrazione Bowers spera essere. Non possiamo sottostimare il costo della democrazia e nemmeno sovrastimare i costi. La corrispondenza di Ecelon attraverso le telecamere dell'aeroporto ha un margine di errore del 2%. Questo è l'ultimo contenitore. Se Soth lo decomprime il primo ciclo dell'infezione colpirà migliaia di persone e sarà impossibile da circoscrivere. Cosa ci guadagna Soth? Sadono ha già chiuso. Non possiamo evocare. No, il dispositivo è già sul posto. Se lo spaventiamo appena un po' lo farà scattare. Tocca a te, Timoreste. Il tuo passaggio è quasi arrivato. Un furgone che dovrebbe portarti dentro. Ho organizzato una piccola distrazione. Se funziona dovrebbe aprirti una piccola finestra di opportunità. Mi rendi il lavoro troppo facile. Rispetto agli anziani. E se qualcuno ti vede avrai perso la corsa e la missione sarà finita prima di cominciare. Hai sempre avuto un talento per proprio, Lambert. Sad, che succede? Di solito non mi controllano fino al prossimo punto. Non ne ho idea. Ho trovato nel registro degli incarichi. Che strano. Ci vediamo. Sì, stammi bene. Bene, Fisher, sei dentro. Stai scherzando? È stato troppo facile. In pratica ci sono dei buchi nella rete e non sei l'unico visitatore che ci è scivolato attraverso. Sot. E l'ultimo ND133 e un po' di mercenari travestiti da impiegati aeroportuali. Scommetto che sono freschi di vaccinazione contro il vaiolo, quindi potresti riuscire a identificarli grazie alla temperatura corporea più alta. Non abbiamo scelta. Ci servono morti. hasde, suyti, la grappi, la grappi. Non abbiamo scelta, ci servono. È stato un sito per il potere. Come rispondi. Sotto, come rispondi. Sotto, come rispondi. E la Grazie a tutti. Anche se provassi a gridare, nessuno potrebbe sentirti. Non lo farò. Bene, per chi lavora? Aeroporto internazionale! Mentire nuoce gravemente alla salute. Per chi lavora? Sono un cittadino del mondo. La mia domanda era un'altra. Puoi uccidermi, ma non puoi fermarci. Dov'è l'ND-133? Tu, tu lo sai. Sorpresa. Dove si trova? Il mio capo mi ucciderà. Ucciderà me e poi anche te. Non parlerò. Ed è brutto morire di vaiolo. Fantastico. Green, sai niente sulle loro comunicazioni? Sì, è una lana banda ultralarga a nodi multipli. Ci sono dieci membri collegati, compreso Soth. Quindi stiamo cercando i nove terroristi che dovrai eliminare prima di trovare Soth. Se tutti gli uomini di Soth sono stati vaccinati contro il vaiolo negli ultimi dieci giorni, allora possiamo scommettere che avranno qualche linea di febbre. Oggi non funziona niente. Ehi, Mark, che succede a questa porta? Ehi, bellaccio. E cosa? Ah, è un bellaccio. Bell'idea comprarne uno. La robaccia dei taccagni del piano di sopra si rompe una volta a settimana. Oh, grazie. Sei nuovo? Non mi pare di averti visto prima. No, ho solo cambiato turno. Ah, di solito fai il turno di notte? Sì. Allora conoscerei... Allora conoscerei... Allora conoscerei... Allora conoscerei... Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.